ciao ragazzi benvenuti sul canale niente volevo fare un piccolo una piccola review dei negli arrivi di questa settimana e niente alcuni ve li ho già presentati nei precedenti video ma ve li farò rivedere e in più ci sono delle aggiunte che non ho fatto appunto negli altri video quindi comunque ci tenevo a farveli vedere e niente partirei direttamente con quello che appunto già vi ho fatto vedere scusatemi un po il gioco di parole e niente è the lost boys vi consiglio ho fatto questo anzi a questo punto vi faccio vedere anche the poltergeist sono le due limited un po discusse in questi giorni in quanto amazon ha cancellato gli ordini ad alcuni addirittura ad alcuni senza mandare l'email e niente a me sono arrivati sono stato fortunato questo qui un po danneggiato ma leggermente ho anche recuperato un po la steelbook aprendola niente comunque vi consiglio di andare a vedere il video dedicato che lo trovate appunto nelle playlist dei video unboxing quindi andate a recuperarvi questi due unboxing perché sono davvero due belle edizioni quindi queste qui passiamo oltre altri arrivi che vi ho fatto già vedere niente quindi c'è umberto di della criterion ve l'ho fatta già visionare quindi vi consiglio di andare a recuperare anche questo unboxing è davvero una bella edizione il film non l'ho visto ancora appena lo vedrò cercherò di dare qualche parere quindi andatevi a recuperare anche questo video dura davvero poco almeno vedete di cosa si tratta altri film che vi ho fatto vedere sono stati gli arrivi della cecchigori quindi troviamo adulterio all'italiana lamb e dipore il grido ovo sodo ed itchia questo ovviamente remake anche qui vi ho fatto un video dedicato che troverete nelle playlist o nei video precedenti come meglio preferite quindi andatevi a recuperare che sarò più diciamo preciso su questi titoli e niente quindi quelli già visti sono finiti tra l'altro è caduto un dvd ma lo recuperiamo dopo ora passerei agli arrivi da amazon che non vi ho fatto vedere ancora questo è tutti i defunti tranne i morti tra l'altro ha fatto un bel video unboxing dedicato il mio amico giovanni di dottor loomis film di pupi avati nella versione e t net film andiamo ad aprirlo vediamo un attimo non è l'edizione non hanno fatto di questo film l'edizione se non avrei preso quella l'edizione diciamo da collezione che a volte fa la e t net sta alternando un po queste slip case tra l'altro questa qui non è nemmeno di quella bella touch l'hanno fatto un po minimal però diciamo che ci interessa il film la slip case è comunque ben benvenuta eccola qui allora abbiamo ovviamente tutti i defunti tranne i morti ci sono anche delle ci sono anche delle degli extra ci sono delle interviste a pupi avati a al fratello antonio avati a giulio pizzarini pizzirani mi perdonatemi stenotonelli insomma un bel po di extra da vedere il film non presenta se non erro traccia inglese si ma soltanto italiano con sottotitoli in inglese tra l'altro removibili questo è il disco abbiamo il booklet anche booklet abbastanza minimal tra l'altro booklet soltanto scritto ovviamente tutto in inglese quindi non abbiamo immagini la cosa mi dispiace un po abbiamo la copertina reversibile con la copertina appunto in italiano con il titolo in italiano e il numero questo dovrebbe essere il numero un attimo perché 75 della collezione d'italian collection della 188 mettiamo al punto per variegare un po questa copertina quindi teniamoci la slip con quella scelta dalla 188 e poi ci teniamo questa qui dentro con l'italiano col titolo edizione molto bella tra l'altro io l'ho presa su amazon 20 euro tipo 19 qualcosa compresa ovviamente lo sapete su amazon non pagate dogana non pagate niente arriva comunque dall'inghilterra perché vi arriverà dall'inghilterra ma non ci sono spese doganali quindi passerei oltre altro film è la strategia del ragno di bernardo bertolucci edizione tedesca infatti dice the straight shadow spine no sto scherzando non conosco la pronuncia tedesca nemmeno l'inglese quindi figuriamoci se conosco la tedesca andiamo a vedere perché sembra un'edizione carina tra l'altro anche questo pagata sulla ventina di euro 22 forse e c'era in germania tipo a 14 euro ma pagando la le spedizioni da amazon tedesco mi sarebbe costato di più adesso se non sbaglio è aumentato l'ho visto sulla trentina non saprei al momento del video perché dopo poco che l'ho presa a 20 euro è aumentato esponenzialmente andiamo ad aprire l'edizione allora abbiamo questa bella full slip tra l'altro molto carina dai colori molto belli con questa ragnatela la vedete molto carina beh dietro si presenta così bel cartonato lucido tra l'altro abbiamo un booklet che non capisco perché stava inserito così e non nella marai e a differenza di quello 188 qui abbiamo anche delle foto ovviamente booklet scritto interamente in tedesco vediamo un po film che io tra l'altro non ho mai visto quindi non riesco però penso bertolucci sia alquanto una garanzia perlomeno a quelli come me a quale piace il cinema di bertolucci qui abbiamo le varie edizioni a quindi ok anche la strada della masina che io presi quindi fa parte di questa di questa etichetta molto bello anche dietro andiamo a vedere all'interno abbiamo il disco la copertina c'è questa però a quanto pare mi sa che è reversibile si ce l'ha senza senza il visto censura che bruttissimo tedesco quindi lo possiamo mettere così tra l'altro dalla slip si può togliere ho visto che è adesivo quindi dopo lo toglierò è davvero brutto è il simbolo della censura tedesca il booklet lo mettiamo a posto suo che dovrebbe essere all'interno e così si presenta il film allora come contenuto bonus materiale bonus booklet quindi lo contano come materiale il trailer poi schubert render cover quindi non so di cosa si parli ma a quanto pare niente che siano interviste o cose del genere aspettate perché ora questo mi sa che mi conviene toglierlo dopo non vorrei vediamo un attimo perché ora il cervello ha già elaborato che devo toglierlo niente no non è così facile quindi lo toglierò dopo magari con calma o più là e niente questi erano i due arrivi da amazon che fino ad ora ancora non avevo fatto non vi avevo ancora fatto vedere passerei da due arrivi da privato da leonardo minichelli non vorrei sbagliare il cognome dell'amico leonardo ma non perché gli dia poca importanza minichelli sia quindi ho detto bene non perché gli dia poca importanza ma io con i nomi e i cognomi sto un po diciamo agli antipodi e niente quindi due arrivi da privato ho recuperato questa spendia steelbook ho fatto già delle foto mi mancava 1917 con questo quarto di slip bellissimo della eagle non so se si vede che è embossed dietro si presenta così no ragazzi è una delle steel davvero più belle che abbiamo visto 4k e blu ray era fuori catalogo non era sigillata ma tenuta come nuova dall'amico leonardo che tra l'altro mi ha fatto un ottimo prezzo non vi dico quanto ma mi ha fatto un ottimo prezzo questo insieme all'altro articolo che vi farò vedere dopo purtroppo è così bella ma si sporca come la guardi no ragazzi davvero una gran steelbook questa bella 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 mettiamola qui e passiamo all'altro questo me l'ero perso grazie ancora a leonardo che me l'ha fatta recuperare it la sfida edizione steelbook 4k inglese con audio italiano audio solo 2.0 allora c'è un po di storia su questa su questa cosa l'audio italiano praticamente il famoso 5.1 dts che tra l'altro è un bell'audio che abbiamo sul sia sul dvd italiano cecchigori che sulla edizione start up sempre della cecchigori in blu ray ok e appunto ha i diritti la cecchigori quindi per quell'audio italiano i diritti sono prettamente della cecchigori qui troviamo soltanto il 2.0 e 2.0 in italiano si dolby digital quindi però ho visto allora qualcuno si è lamentato del grading per quanto riguarda il come si dice mamma mia che brutta cosa che hanno fatto con vabbè per quanto riguarda il l'hdr dicono che è scuro allora ho letto molti pareri in giro a parte che ho visto il grading le foto e devo dire che non mi è dispiaciuto si effettivamente è un po più scuro del blu ray però dice che praticamente michael man l'ha voluto così perché appunto alla fin fine it è un film cupo cioè quindi non dovrebbe avere troppe luci ma dovrebbe appunto rendere quell'idea di cupagine allora vediamo un attimo questa è la steelbook davvero molto bella abbiamo Robert De Niro e Al Pacino e dietro si presenta così abbiamo tre dischi abbiamo IT in 4k abbiamo il bonus disc non so se ci siano sotto in italiano ma credo di no e il film in blu ray eccolo qui quindi ripeto nuovo hdr quindi nuova immagine sono curioso di vederlo è uno dei film che amo tra l'altro io non so forse non tutti sapete io colleziono la filmografia di De Niro che tra l'altro non ho completa ma tutto ciò che è Robert De Niro il sottoscritto compra e colleziona niente quindi eccolo qui davvero davvero bella qui abbiamo la sua quarto di slip che io odio quando fanno questa cosa qui la odio la odio talmente tanto perché è scomoda da perché se la vuoi tenere con questo cartoncino sopra praticamente si alzerà sempre beh a parte che adesso ho tolto la colla cioè io preferisco questa edizione qui sinceramente ce l'ha il cartoncino uguale non c'ha sto pezzo in più che è talmente antipatico anche perché io poi lo piego dietro questi sono gli unici flyer che io non conservo da parte in quanto hanno appunto il quarto di slip che comunque è comodo ed è bello però vedete o lo tieni così ed è brutto o lo tieni così ed è brutto è vero che io lo metto nella plastica diciamo protettiva però trovo scelte alquanto discutibili ragazzi gli attivi di questa settimana sono finiti vi ringrazio sempre per la pazienza di seguirmi spero sempre di fare video con arrivi interessanti ovviamente si fa ciò che si può non ci si può tipo queste ho dovuto rinunciare ve lo dico molto chiaramente volevo comprare edizione da collezione di dune e ci ho dovuto rinunciare perché appunto non si può comprare tutto e niente già questa settimana è stata abbastanza diciamo corposa con questi acquisti perché non costano poco quindi vi ringrazio ancora vi auguro una buona domenica perché sto registrando di domenica penso che lo caricherò stesso oggi quindi una buona domenica un buon inizio settimana per lunedì e niente mi raccomando iscrivetevi e commentate sono sempre a disposizione come potete vedere rispondo a tutti i commenti quindi vi ringrazio ancora ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao